Ragazzi scusate vi vedo con la coperta ma non è che siete qui da ieri sera? No per fortuna no, siamo saliti ieri notte a luna e abbiamo provato a dormire anche se è stato inutile perché ci siamo svegliati ogni mezz'ora per le scosse e stamattina alle 8 siamo volati giù dal letto perché comunque è stata forte, adesso rimaniamo qui, per fortuna abbiamo le coperte, ieri sera eravamo in pigiama. Abitiamo in centro storico all'ultimo piano, una casa del 500, 600, non lo so, con i pavimenti e quando cammini normalmente balla, col terremoto è stata proprio la breakdance. Aspettiamo stasera comunque, vediamo come va la situazione, ci spaventiamo ad entrare in casa, tipo noi siamo al terzo piano e non è per niente stabile, si sentiva proprio tremare tutto, la televisione, il letto, i piatti dentro il lavello. Prima della prima scossa abbiamo sentito un buato enorme ma tutti pensavamo che fosse caduto qualcosa dal piano di sopra e dopo pochi secondi è iniziato a tremare tutto, io avevo la porta di casa che sbatteva. Guardavamo tranquillamente Sanremo come tutti gli italiani, a un certo punto è cominciato a ballare il tavolino tutto. Avete sentito un buato prima? Buato bestiale. Io ero dentro il letto, stavo per andare a dormire, ho visto il mio armadio che traballava verso di me. A un certo punto siamo usciti a mezzanotte e siamo andati a dormire fuori in un furgone, un freddo boia. Io sono abbastanza basso però si è sentito molto bene, specialmente il primo è stato impressionante, non tanto la scossa quanto il rumore, il rumore è stato veramente impressionante. Stamattina ci sono state molte scosse? Sì sì, ci eravamo appena alzati dal letto e subito siamo scese di nuove strade e non siamo più rientrate. Quando rientrerete in casa? Cioè cos'è che potrà rassicurarvi? Non lo sappiamo, controlliamo il sito dei sismi insomma. Io dopo stavo bene, mi hanno fatto uscire a forza, io stavo anche in casa. Non l'ha sentito? Sì l'ho sentito, io sto al quinto piano, sì. Centro? Centro sì, l'ho sentito e bene, però ragazzi, se è l'ora è l'ora.